benvenuti alla seconda puntata di orl social sangue dal naso soffiamolo il titolo di oggi sicuramente genera in voi sorpresa ascoltare queste parole o leggere il titolo ebbene sì per allontanare il sangue che c'è nel naso bisogna soffiare questo è un timore ancestrale che c'è nella notte dei tempi che pensate ho vissuto in un certo senso anche io fino a quando non ho studiato medicina ricordo che da bambino avevo spesso sangue dal naso e che mia nonna mi soccorreva portandomi in bagno preparando delle pezze fredde da mettere sul collo magari sulla fronte nell'attesa che questo sanguinamento si arrestasse c'è questa paura ancestrale perché il naso è vicino alla testa al cervello quindi vicino all'organo nobile quindi è una manifestazione vissuta come pericolosa l'ottanta per cento delle epistassi invece sono sanguinamenti banali che provengono da capillari molto piccoli localizzati in questa regione che noi chiamiamo locus varsalve e vengono quindi da capillari quindi in questa regione c'è un reticolo venoso immaginate la tessitura di una coperta di un plate che è poi ricoperta dalla parte morbida quindi la parte morbida la mucosa del setto nasale di sotto c'è il reticolato ci sono questi capillari questi capillari per una serie di motivi magari perché siamo raffreddati abbiamo avuto un piccolo trauma magari mettiamo il dito nel naso usiamo farmaci particolari si possono rompere possono sanguinare qual è la procedura corretta quindi per gestire il sangue dal naso sia che trattasi di un bambino che di un adulto soffiare forte il naso come se avessimo il raffreddore prendere un po di ovatta aggiungere un po di acqua ossigenata che abbiamo tutti a casa e che è un ottimo emostatico inserire l'ovatta nel naso e comprimere la parte molle quindi stringere come una pinza le narici in modo che ci sia compressione e l'ovatta può essere lasciato lì anche per un'ora per una o due ore se ci pensate bene noi questo lo facciamo e l'abbiamo sempre fatto anche nelle altre parti del corpo quando eravamo ragazzi e purtroppo cadevamo dalla bici ci sbucciavamo le ginocchia cosa faceva la nostra mamma e il nostro papà lavava il ginocchio quindi allontanava il sangue e poi comprimeva con un fazzoletto dopo con un cerotto quindi nel naso dobbiamo allontanare il sangue soffiandolo e poi comprimere pinzando le narici quasi tutti sperimentiamo un epistassi e ripeto in più del 90 per cento dei casi sono epistassi banali che non hanno complicanze cosa fare invece quando il sangue dal naso si ripete per più volte a settimana per più volte al mese a quel punto ci si rivolge al medico anche al vostro medico di famiglia al pediatra che vi prescriverà degli esami del sangue l'emocromo cioè quello che studia quante emoglobina vete i vostri globuli rossi che studia i tempi di coagulazione quindi come funziona la vostra coagulazione questi esami sono molto importanti anche e sotto nel bambino molto piccolo non ha mai fatto questo tipo di esami se siete adulti avete una storia clinica positiva vi farà misurare la pressione magari più volte al giorno in orari differenti del giorno vi prescriverà una visita cardiologica perché comunque l'irrorazione sanguigna del naso viene da arterie importanti che sono la carotide interna e la carotide esterna che sono a loro volto ai rami della orta quindi se aumenta la pressione arteriosa aumenta anche la pressione in queste arterie e in questi capillari che si rompono quindi correggendo la pressione alta spesso le pistassi si riducono o se no manda il paziente allo specialista che è l'otorino laringoiatra che oltre a fare la visita raccoglierà un'anamnesi quanto più completa possibile quindi valuterà se il paziente ad esempio fa un utilizzo scorretto fa un abuso di farmaci topici nasali pensate dei congestionanti nasali agli spray nasali o usa sostanze che possano disidratare rendere secca e quindi fragile la mucosa valuterà se il paziente allergico perché i pazienti allergici hanno un'infiammazione di base allergia all'infiammazione quindi una vasodiratazione di base che predispone più facilmente il paziente a sanguinare anche banalmente quando si gratta il naso quando ha prurito questo è il classico gesto del paziente allergico e poi lo specialista autorino laringoiatra farà l'endoscopia nasale cioè utilizzerà una piccola telecamera per guardare non la parte anteriore solamente non solamente la parte interiore del naso ma anche tutta la parete laterale del naso dove arrivano queste questi vasi arteriosi importanti per studiare per bene la regione ma anche per escludere che non ci siano altre neoformazioni sanguinanti altri punti sanguinanti magari un polipo del naso che sanguina cioè per escludere altre cause di sanguinamento nasale c'è poi una terapia delle epistassi che più delle volte è medica o a volte invece porta lo torino a ricorrere alla causticazione ma della terapia delle epistassi parleremo nella prossima puntata per questa invece è tutto io vi ringrazio vi saluto e alla prossima